Terremoto in Russia di 6.1 sulla scala Richter, avvertito nella zona delle isole Kuril, il terremoto è stato diciamo così avvertito alle ore 20.12 di ieri, che esce agosto 2018, ora italiana, mentre le isole Kuril erano le 6 del mattino, il sisma si è verificato a una profondità di 10 km circa. Insomma, la Russia torna a tremare, la Russia ha questo bellissimo paese così vasto, così enorme, purtroppo si ritrova con un terremoto anche piuttosto forte di ben 6.1 della scala Richter, questa è la magnitudo misurata dagli esperti geologi. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione di questo video di oggi, se abitate in Russia ditemi sì, ho sentito oppure no, non ho sentito il terremoto in questione. Al momento però non si segnalano danni a persone oppure a cose. Grazie, un chiaro saluto, iscrivetevi, commentate, al prossimo video da narratore italiano e spero che questo video vi sia piaciuto e che possiate mettere un bel like oppure un dislike nel caso in cui non vi fosse piaciuto. Grazie ancora, un salutone al prossimo video. Grazie a tutti.